Qualcosa meno di 9 milioni. A tanto ammonta il risarcimento che le parti civili hanno chiesto a Giacomo e Massimo Pellegrini, soci dell'immobiliare MGF e attraverso questa proprietari del capannone di via Toscana, distrutto dall'incendio che il primo dicembre 2013 provocò la morte di sette operai cinesi della confezione Teresa Moda. Oggi è stata la volta degli otto avvocati di parte civile che hanno chiesto al giudice Fanales di condannare i fratelli Pellegrini, imputati di incendio colposo aggravato, omicidio colposo plurimo e lesioni gravi. Parti civili d'accordo, senza dormitori non ci sarebbero stati i morti. Comune di Prato, INAIL, CGL, CISL, UIL, l'unico operaio sopravvissuto e 19 tra parenti di primo e di secondo grado delle vittime. Questa la schiera della parte civile. Le parti civili rappresentate sono troppo poche, ha detto l'avvocato Alessandro Gattai che per la CGL ha chiesto un risarcimento di 100.000 euro. Rilevo l'assenza dell'Unione Industriale Pratese che tutela le aziende sane, quelle aziende che ricevono un danno da imprese come la Teresa Moda impermeabili alle norme. Una stoccata, quella dell'avvocato della CGL, che non è passata inosservata. Le parti civili hanno ricalcato la requisitoria del pubblico ministero Lorenzo Gestri affermando che i pellegrini, disinvolti e consapevoli professionisti dell'immobiliare, hanno avuto un ruolo centrale nella vicenda. Anzi di più, la prima responsabilità dei decessi va ad evitata ai proprietari dell'immobile, ha detto l'avvocato Tiziano Veltri, perché se non ci fosse stata la Teresa Moda ci sarebbe stata un'altra impresa, mentre senza la loro accondiscendenza non ci sarebbero stati i loculi, perché quelli altro non erano che loculi. Veltri, che difende l'unico operaio che riuscì a salvarsi e 11 familiari di 5 vittime, complessivamente ha chiesto un risarcimento di 4 milioni. Ammonta poco meno di 2 milioni il risarcimento chiesto dall'avvocato dell'Inail Giuseppe Quartararo, il comune di Prato difeso dall'avvocato Stefania Logli, ha chiesto 200 mila euro, il comune ha investito tanto nel patto Prato Sicura, dimostrando di aver elevato a obiettivo primario la lotta all'illegalità. Risarcimento di 150 mila euro chiesto dall'avvocato della Cisla, Andrea Logli, e di 500 mila euro dall'avvocato Vittorio Simoncelli della UIL, che ha avanzato l'ipotesi di un esposto alla Procura della Repubblica per riduzione in schiavitù degli operai della Teresa Moda. Gli avvocati Capetta e Bove hanno chiesto per 8, tra parenti di primo e di secondo grado di due degli operai morti risarcimento per un totale di 2 milioni domani le arringhe della difesa.